La tua interviene in merito alla polemica generata dalla irreperibilità dei titoli di viaggio nelle rivendite, come sottolineato da utenti e sindacati. Una situazione che però sarà risolta nel giro di qualche giorno, lo assicura il direttore generale Giuseppe Alfonso Cassino. La questione dei biglietti è oggetto di una task force che quotidianamente sta verificando le attività. Che cosa abbiamo fatto e vorrei cogliere questa occasione che mi date per spiegare quello che stiamo facendo. Noi sostanzialmente stiamo cambiando modello di produzione, distribuzione e vendita dei titoli di viaggio, che è una parte preponderante delle attività di un'azienda di trasporto ma sulla quale si giocano anche partite economiche e finanziarie di tutto interesse perché i nostri ricavi sono legati appunto a buona parte dei nostri ricavi a questa attività. Tu hai ereditato modalità di distribuzione dei titoli di viaggio dalle tre aziende dalle quali è nata, modalità diverse con agi cosiddetti, la percentuale che prende il distributore molto eterogenei, con costi di distribuzione altissimi, quindi siamo intervenuti con un modello più efficiente che permette a Tua di incassare di più, di incassare subito e di aumentare la capillarità della rete. Questi sono gli obiettivi. Nella fase di migrazione dal vecchio a nuovo sistema devo ammettere che abbiamo avuto delle difficoltà operative che sono in via di pronta risoluzione, quindi mi scuso con i clienti che hanno avuto disagio non trovando titoli presso le rivendite presso cui normalmente si rifornivano, ma li posso assicurare che nel giro di una settimana la questione sarà rientrata e potremo riprendere con serenità in una situazione di maggiore efficienza. Ultima domanda, fin quando il servizio non sarà ripressionato, nel caso in cui una persona non ha il biglietto ci sarà sempre la multa? Abbiamo dato indicazioni a nostri verificatori di tener conto ove ci fosse un problema di questo tipo e di non applicare le sanzioni perché la responsabilità è nostra e non è certa del viaggiatore.